oggi l'uomo scoprirà la verità oggi dopo tante recensioni viste su internet l'uomo scoprirà la verità gucci guilty absolute è simile a philip play lo limits bene sono due profumi quasi completamente diverse hanno solo un po ma poco il cuoio simile ma pochissimo allora gucci guilty absolute è vetiver cipresso pasciuli cuoio e non c'è note legnose non c'è nient'altro nel gucci guilty absolute mentre in philip line è speziato è tipo man in black di bulgari non c'entrano niente non c'entrano niente tutte e due non non c'entrano niente ho visto tantissime recensioni dove si dicevano che erano uguali come profumi non è vero non è vero ce l'ho io qua tutte e due e vi posso assicurare che se io sdiffo sento gucci guilty absolute e philip pleno limits sono completamente diverse completamente hanno lo stesso naso alberto moriglias ma non c'entra niente l'uno con l'altro è vero hanno lo stesso naso profumiere ma questo non vuol dire niente perché ha fatto anche acqua di giù allora questi profumi io ve lo sto dicendo non si assomigliano se non per un po di cuoio che hanno tutte e due ma poi sono completamente diversi qua il cuoio su philip line è sporco molto di più quasi gomma infatti dopo resta un alone di tipo di di non è un cuoio buono come quello di gucci guilty absolute è un cuoio sporco sintetico ma fatto apposta così perché poi è speziato ci sono tantissime spezie è vanigliato è il balsamico mentre gucci guilty absolute è proprio cuoio tipo come l'odore del cuoio delle giacche di pelle delle selle dei cavalli è diverso è diverso e poi c'è si sente il pino e il cipre e il non il pino ti volevo dire il cipresso e il vetiver che nell'altro ci sono queste noti non c'è il cipresso ci sono note legnose così ma si sentono di meno c'è qualcosa ma là c'è solo quello cioè questo è speziato e quello è balsamico tipo non c'entrano niente sono due profumi diversi perciò se volete fare un acquisto sentiteli tutti e due perché veramente io li uso tutte e due perché io mi piacciono io tutto l'anno uso il chiodo mi metto sempre il chiodo come giubbotto sempre qualunque cosa situazione fa infatti ne ho tre oppure giubbotti di peli lunghi ma perché uso molto la pelle uso sempre questo giubbotto perciò mi piace utilizzare profumi al cuoio molto potenti che che col giubbotto di pelle ci stanno bene e ce l'ho tutte e due infatti ragazzi sono due profumi diversi sentite l'improfumeria tutte e due se volete acquistare non è vero assolutamente come dicono le recensioni che sono uguali o simili o qualunque altra cosa non è vero assolutamente non è vero assolutamente ascoltatevi a me che ce l'ho tutte e due qua e niente volevo dirvi questo guardatevi gli altri video che parlo di profumi e di altre di tantissime altre cose e poi iscrivetevi al canale e mi raccomando se non sentite questi due profumi tutte e due non potete dire che sono simili perché non lo sono non lo sono niente volevo dire solo questo a presto